salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video sto registrando di seguito l'episodio scorso mi trovo infrattato perché era diciamo si era riavviato il server nell'ultimo appuntamento e mi ha fatto rinasce praticamente in mezzo al nulla quindi durante la presentazione insomma mi sono un attimo messo in questa posizione per cercare di non farmi troppo troppo scoprire a parte che vabbè c'è questa giacca arancione che ci fa notare da chilometri e chilometri però intanto ho messo un attimo messo sdraiato allora continuiamo la nostra esplorazione ci siamo lasciati appunto che siamo in questa zona portuale che mi ricordo se tipo la stessa città di prima fine comunque un'altra città costiera riuscissi a trovare una mappa giusto per capire dove andare non sarebbe male come cosa comunque continuiamo la nostra esplorazione a scarponi da lavoro questi magari so pure meglio dei nostri anche se comunque erano entrambi in buone condizioni magari questi durano un po di più allora la situazione deve sembra abbastanza tranquilla non vorrei portarmi ovviamente sfiga da solo scarpette non mi interessano come sempre siamo alla ricerca di cibo anche se dovremmo averci una mela e una prugna che abbiamo recuperato dal corpo di un sopravvissuto che era diciamo allo spawn dove dove siamo nati noi ma senza che ci andiamo a rincastrare qua in verità qui di solito non c'è mai niente però una controllatina veloce facendo comunque attenzione perché ste porte chiuse ragazzi sono sempre problematiche non c'è manca la croce direzionale cioè croce direzionale il mirino praticamente adesso lo sto vedendo ecco perché non ci pigliava artizio meno che non sei buono a sparare con la con il mirino dell'arma sennò è complicato cioè sparare così non sai manco dove andare a prendere quindi per forze cose devi mirare in prima persona non ci avevo fatto caso anche perché non avevo mai avuto un'arma per ora quindi non sapevo di questa di quest'altra differenza rispetto ai server in cui è possibile avere la terza persona quindi ancora più difficile la cosa non è male ripeto com'è difficile per me edificio anche per altri certo che sono quelli che magari sono già belli esperti di questo genere di di server però insomma se c'è qualche new entry come potremmo eventualmente battagliarci ad armi pari forse ovviamente se lui c'ha un fucilone io vado con la pistoletta la vedo molto difficile battagliarci ad armi pari però vediamo dai non ci sono zombie e non so se è una cosa positiva oppure no e per ora continuo problema che ecco in terza cioè prima persona guardarsi dietro e c'è lo zainone enorme è complicato c'è una cazzo di gallina la sento da qualche parte qua in giro mi sa che sta tipo ecco la ti è aspetta ma che cazzo sparassarvi oh l'ho vista che l'ho becchiata che cazzo sai che galline d'ailander ma che cazzo certo ci hanno sentito pure nel brasca però dai almeno abbiamo presa una gallina fammi no fammi ricaricare niente non ce l'ho ai corpi che era quello era zombie si sono zombie stanno arrivando ovviamente hanno sentito gli spari si sono affacciati per vedere chi chi fosse allora questa è una struttura enorme questa si apre no sembra un cacchio di contenere enorme allora occhiali da sole abito non ci serve colpi questi forse vanno bene per la nostra arma no 76239 ma questi sono i 0 380 no niente assolutamente no però colpi che potrebbero tornarci comodo enorme sta zona è però rega veramente enorme mi sento un attimo dico fuori luogo però insomma un po spesa così questo sicuro perché se la tua combinazione quattro cifre vabbè io più tutto poi sarà contento quello che ci ammazzerà ora che c'è ma comunque lo zaino enorme approfittiamo noi recuperiamo un po di roba e dicevo mi sento spesato perché punto c'è un sacco di di strutture grosse anche per curiosità ovviamente vado ad esplorare prestando ovviamente attenzione perché se no qua c'è una cor fucile cosa che che volo ce fa fa ce fa fa naschio pettata paura paurosa e ci butta per terra quando mi sembra che ci sia niente però ci sono ancora scale che salgono è comunque una struttura qui abbandonata spero ovviamente di non trovarci nessuno però insomma vado in esplorazione perché sono curioso magari troviamo qualche cosa di interessanti in punti in cui ora non ci andrebbe mentre ci siamo noi e troviamo qualcosa tipo una specie di mitra super potente del gioco che ne so quasi sarà ancora su e andiamo ancora su dai occhio che dio sti giochi di luce particolari importante ragazzi che non so fidete guarda il cazzo di scala la non so fidete di vertigini raccomando non c'è mai chi guanti quindi poi a scendere dobbiamo scendere in maniera diciamo normale non non fast altrimenti rischiamo di facci malissimo dannazione allora vabbè qui sicuramente è un buon punto per avere un'occhiata generale della zona magari un fucile da cecchino qua pure potresti fa un po di danni e noi purtroppo abbiamo una piscola una pistoletta scrausa coi colpi che non sempre funzionano e quindi dobbiamo accontentarci occhio che se cadiamo qua fanno ci fa un malissimo allora com'è la zona l'acciono zombie e non mi sembra che ci sia nient'altro c'è pure un faro giù mazza che città c'è bella grossa questa questa è una gran bella città non c'è niente strutture comunque commerciali abbastanza grosse a nostra scala che arriva fino all'altro tetto che è ancora più alto di questo credibile detto qua col col cecchino veramente te metti a fa i danni certo sperando che poi passi effettivamente qualcuno se c'è tempo era verde te metti qua e poi ogni tanto scendi e fai recuperi insomma l'eventuale bottino mi sembra che ci sia nessuno in verità è un petto che avevamo visto prima prima ce ne erano molti di più in giro vabbè torniamo giù dai il panorama se lo siamo visto e ora torniamo giù torni e torniamo dai ok dicevo purtroppo devo scendere così perché se scendo velocemente rischio che mi taglio e arriviamo giù che bene non ce la abbiamo più abbiamo già tutte belle che è finita devo pure mangiucchiare qualcosa prima che magari vatano a male la frutta che abbiamo c'è pure una gallina ma non ho niente per squagliarla quindi per il momento abbiamo accontentacce di sta mela non so se in verità in queste strutture è possibile effettivamente trovarci qualcosa magari voi che avete più esperienza fatemelo sapere curiosità insomma ci abbiamo trovato il lucchietto sì però c'è c'è possibile trovare qualcosa di più magari interessante che non sia quell'occhietto a quattro c quattro cifre l'occhietto manco mi ricordo ma non posso aprire inventario mentre no dobbiamo dobbiamo scendere frate stavo risalite di nuovo non posso aprire ovviamente lo zaino quando sto su una scala e sta cosa che devo scendere pianissimo non mi fa neanche molto piacere perché appunto qualcuno col fuciletto p ma il tiro al piccione no 44 cifre quindi penso che sia anche abbastanza importante insomma c'è quello a 3 ma c'è pure quello a 4 che ovviamente c'hai ancora più possibilità di che non sia diciamo scoperto non che tre cifre siano poche da scoprire però insomma se ci si mette se te ci metti in impegno magari tre cifre potresti pure pure andarle a a trovare in un tempo diciamo ragionevole ma troppo tempo libero ce devi avere allora controlliamo un attimo dentro a sta casa se c'è qualcosa che può tornarci a non è una casa no occhio che è la batteria questa c'è una batteria una candela questa è una zona comunque industriale quindi certo non c'è un cacchio di magazzino alimentare no dovella tipo magazzino del suo e mercato non ci avranno roba da mangiare belli e ti prendi un po di roba poco per project zombaita non ci stanno i supermercati dovelli essa sicuro che ritrova qualcosina ma c'è niente del genere container che non hanno niente se non vestiti va bene e non c'è niente di che qua sopra ovviamente chiuso e quindi possiamo anche andarcene da qua allora continuiamo la nostra esplorazione in questo mega complesso e andiamo verso la città ragazzi e vediamo se riusciamo a trovare delle indicazioni per che sono qualche altra cittadina piccoletta più facile da da esplorare non mi vado a riempicare di nuovo la sopra eh allora qua ci sono di chi era quello lo zombie container che non sono zombie pure qua funzionava ho visto vabbè questo mazzano dai cittuato cazzo sei ok sempre speranzoso è infatti che ci sia qualcosa di buono all'interno purtroppo non ho niente per aprirle sta roba nazione felpa col cappuccio questa non è male questa ma prendo a parte che perlomeno è scura e non è male come cosa e allora questa mettiamo qua questa la mettiamo qua e questa intanto ce la mangiamo allora intanto sta calando anche il sole quindi da qui a breve dovremmo cercarci un posto dove stare per la notte maschera antipolvere mi servirebbe qualcosa per aprire il barattolo del cibo insomma che abbiamo trovato vediamo un po se sono fortunati qua a parte teniamo la pistola comunque in mano questo a giacca da pioggia no non siamo per niente fortunati dannazione servirebbe un cortelletto qualcosa del genere qualsiasi cosa possa servirmi per è entrato prima per aprire sta cosa dannazione allora ammazziamo sto zombie magari c'ha qualcos'altro da mangiare sta zitto ok c'è proprio niente un riato un radiatore addirittura però non ci serve qui c'è uno morto ed è uno zombie stava attenzione perché ok il tubo vorrebbe essere interessante un caldo per ammazzarci zombie vabbè abbiamo pure quest'altro così chiunque ci ammazza ci avrà entrambe le scelte volendo questo zombie qua ucciso non so da quanto non c'è niente addosso quindi prestiamo attenzione che potremmo non essere soli qua allora un'altra parte caccia rana allora così chiama ragazzi sto andando abbastanza veloce è sicuramente qualche zona acqua maso oppure versa e non non controllata perfettamente però devo cercare di muovermi entro il tramonto diciamo occhio qua questa attenzione ho già visto una pistoletta che non sembra male perché ce l'abbiamo già una però che la puttana il cazzo sei e porca puttana perché non mi spara ce l'avevo la cazzo di pistola in mano ma dove cazzo è uscito mi sta pure a fregare vabbè mi ammazza pure sto stronzo e infatti mannaggia la misa ce l'avevo la pistola a mano stavo pure a preme per sparare dove cazzo è sbucato dannazione cioè come morì armati cioè un deficiente son morto son morto come un deficiente cioè scusate ma porca trota è arrivato mi sembrava raggi marciare adesso sinistro adesso sinistro non so riuscire a fan cacchio non so riuscire a fan cacchio dannazione e ovviamente poi si ha preso la pistola e mi ha ammazzato che coiombiero questo stato veramente vabbè così veloce sta 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 run una dannazione fatto proprio una stronzata proprio che non l'ho visto non l'ho proprio visto e quella cosa vabbè ennesimo spawn né niente è andato bene perché tra tutta roba i pistoli o zaino la roba che ci avevo ovviamente gli ha data è andata di lusso ha fatto veramente una cacchiata e ce l'avevo pure la pistola in mano oppure premuto il tasto per sparano niente non mi ha sparato mi ha fatto niente o stavo talmente rincoglione dai corpi che mi aveva dato che non è riuscito ma anche a fa a fa niente dannazione vabbè è finita così male ma sto un po rosica effettivamente perché insomma sembrava che fossimo abbastanza ben equipaggiate invece è andata malissimo vabbè ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui tanto comunque sta avvenendo giù la la sera ennesimo zona di spawn qui sulla costa e continuiamo insomma all'esplorazione perlomeno della costa di questa mappa poi chissà se riusciamo ad essere digni di andare un pochettino più nell'entroterra e vedere un po come la situazione anche lì come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo potete insultarmi benissimo nei commenti dai questa volta me li sono meritati assolutamente non è possibile morire armati così assolutamente no però ci sta dai ci vediamo al prossimo video allora ragazzi dai ciao ciao